Ciao a tutti, mi chiamo Artanis e con questo breve podcast vorrei parlarvi dei vari tipi di protocolli di comunicazione che adoperano una fibra ottica, con lo scopo di spiegare in maniera semplice e chiara quali sono le attuali possibilità per la banda ultralarga. Per prima cosa un chiarimento, non sono un tecnico di telecomunicazioni, quindi alcune delle cose che vi dirò potrebbero essere imprecise. Si tratta comunque di una sintesi di ricerche che ho effettuato in questi mesi incentivate dai recenti sviluppi in tema di banda ultralarga sul territorio italiano. Se notate delle imprecisioni o degli errori, fatemelo presente nei commenti e pubblicherò le dovute correzioni. Innanzitutto occorre parlare dei vari tipi di connessione adoperanti della fibra. In generale tutti i sistemi che fanno uso parziale o completo del mezzo trasmissivo in fibra ottica si chiamano FTTX. Le prime tre lettere stanno per Fiber to the, cioè fibra fino al, e la X invece cambia a seconda della categoria e tipologia. Partendo dalla meno performante a quella più performante ci sono le seguenti categorie. FTTN, Fiber to the Node, fibra al nodo di scambio, FTTC, Fiber to the Cabinet, fibra fino all'armadio, FTTDP, Fiber to the Distribution Point, fibra fino alla chiostrina, FTTB, Fiber to the Building, fibra fino all'edificio, FTTH, Fiber to the Home, fibra fino a casa. La FFTN, quindi la Fiber to the Node, non indica una soluzione per l'utente finale, ma solo che la centrale del proprio provider è connessa alla dorsale direttamente in fibra ottica. Sebbene questo passaggio sia necessario perché la stessa possa erogare gli altri servizi, non è un tipo di connessione cui l'utente può avere accesso, se non appunto attraverso i servizi derivati. I servizi derivati sono quelli che vi elencherò adesso. La FTTC, la fibra all'armadio ripartilinea o cabinet, è il tipo di connessione che sta avendo maggiore sviluppo negli ultimi tempi in Italia. Bisogna innanzitutto chiarire che una connessione in FFTC non è una connessione vera in fibra ottica, infatti il mezzo trasmessivo è in fibra solo fino all'armadio ripartilinea. Da quel punto in poi la connessione viaggia su rame e il protocollo di connessione è il cosiddetto VDSL. In Italia si è partito direttamente con il protocollo VDSL2, che permette una banda totale dai 50 ai 300 Mbps. Questo protocollo di connessione ha a disposizione diversi profili. Il profilo più comune è il cosiddetto profilo 17A. Questo profilo consente una velocità di download fino a 100 Mbps e una velocità in upload fino a 20 Mbps. Variazioni numeriche sono naturalmente possibili a seconda dell'operatore. Nel mese di maggio 2017 Tim dovrebbe, o a seconda di quando ascoltate questo post potrebbe aver già, dovrebbe iniziare la vendibilità del profilo 35B, che è il profilo ultimo del sistema VDSL2, cioè la massima estensione, la massima possibilità di questo sistema. Questo profilo consente di raggiungere una velocità in download fino a 300 Mbps e una velocità in upload fino a 50. Questi sono i valori massimi ottenibili, come ho detto prima, con questo metodo, con la Fiber to the Cabinet e quindi con il VDSL2. Trattandosi però di connessione attraverso il rame, perché come abbiamo detto la Fiber arriva solo fino al cabinet e poi dal cabinet alla propria abitazione si passa con il rame, soffre di numerosi problemi. Il primo è la lunghezza del cavo in rame, quindi la distanza tra l'abitazione e il cabinet. Questa lunghezza, o questa distanza, influisce pesantemente sulla prestazione della linea e quindi sulla banda fluibile. Oltre i 300 metri il valore ottenibile di banda in genere cala sotto i 100 Mbps, arrivando sotto i 50 oltre i 500 o 600 metri. Inoltre la trasmissione su rame soffre di disturbi causati dalle altre linee, la cosiddetta diafonia, che è in grado di abbattere il valore ottenibile massimo fino al 50% in presenza di numerose linee disturbanti. Le linee disturbanti sono praticamente quelle coppie di cavi e rame che percorrono lo stesso tratto insieme. Se, per esempio, un vostro vicino attiva la VDSL, entrambi finirete per subire la diafonia e perdere verosimilmente il 20-30% dell'ottenibile. Questo problema, il problema della diafonia, è risolvibile con una tecnologia chiamata Vectoring. In pratica è una tecnologia che permette di correggere quasi interamente i problemi e i disturbi causati nella diafonia, diciamo fino al 95%, e quindi poter ottenere tutta la banda disponibile, già però ovviamente limitata dalla lunghezza del cavo in rame e quindi dall'attenuazione. Significa che se in casa vostra arrivano 90 Mbps su 100, con il Vectoring, questi 90 Mbps restano tutti, anche se tutti i vostri vicini dovessero attivare la VDSL. In caso contrario, in assenza di Vectoring, ogni vicino che va ad attivare la VDSL abbatterebbe la vostra velocità massima, fino ad arrivare a una perdita del 50%, quindi se voi arrivavate al 90 Mbps arrivereste magari intorno ai 45-50 come massimo, quindi avreste un decadimento delle prestazioni massime, anche abbastanza serio. Dicevo, è possibile correggere questo problema attraverso il Vectoring. Purtroppo questa tecnologia in Italia è stata bloccata dall'Agicom, l'Agenzia delle Comunicazioni, per presunti problemi di correttezza operativa per tutti gli operatori, perché se ad esempio un solo operatore, mettiamo Telecom, fornisce il Vectoring, altri operatori, magari che non sono in grado di fornirlo, finirebbero ad avere una linea, a offrire ai propri utenti una linea di prestazioni inferiori, quindi mentre Telecom, per fare un esempio, riesce ad abilitare il Vectoring e quindi a avere delle connessioni delle linee molto più performanti, un competitor potrebbe, magari non in grado di impostare il Vectoring, finirebbe per offrire delle linee di qualità inferiore e quindi questo sarebbe un problema dal punto di vista dell'antitrust, perché Telecom in questo caso, o comunque l'operatore, in grado di fornire il Vectoring avrebbe una posizione di vantaggio, quindi secondo l'Agicom il Vectoring non può essere implementato in Italia. bisogna implementare un sistema che ancora è, diciamo, in via di sviluppo e non è ancora una tecnologia operativa, bisognerebbe utilizzare il cosiddetto MOV, il Multi Operator Vectoring che andrebbe a risolvere questo problema dando a tutti gli operatori la possibilità di attivare indipendentemente il Vectoring e quindi toglierebbe il problema, secondo l'Agicom, di dare un vantaggio a un operatore piuttosto che all'altro. Comunque, il problema è che per il momento il Vectoring non può essere abilitato, quindi qualsiasi connessione in FTTC inevitabilmente incorrerà in diafonia. Prima o dopo, qualsiasi connessione andrà incontro in Fiber2Decabit, andrà incontro a questo decadimento. Man mano che più utenti nelle vicinanze o comunque utenti che si collegano attraverso e che quindi il cavo che li collega percorre una stessa distanza, una parte della stessa del cavo che va a collegare la vostra abitazione, purtroppo finiranno per deteriorare, degradare la linea massima. Questo è uno dei problemi, non il più grave, ma sicuramente uno dei problemi della connessione in rame. L'ultimo, se vogliamo, è che il rame stesso è, spesso e volentieri, un cavo in rame molto vecchio, messo e posato decenni fa per uso in comunicazione telefonica, quindi per quel mezzo e quindi magari si ritrova in condizioni di usura che non fanno altro che incrementare il rumore sulla linea e quindi aumentare l'attenuazione del segnale e abbassare la banda ottenibile e degradare la condizione della linea. Questo è un problema che utilizzando il rame purtroppo continua a essere. C'è lo stesso problema che c'era con le connessioni in ADSL, solo che per le ADSL il problema della diafonia non si poneva perché c'erano delle frequenze molto più basse, ma il problema della distanza sì, e più si era distanti dalla centrale, più bassa era la velocità. Quindi chi era più vicino alla centrale arrivava magari intorno ai 16-18 Mbps sui 20 massimi disponibili della tecnologia ADSL2, ma chi era più lontano, 2-3 km dalla centrale, cosa abbastanza comune per ogni paese, essendoci una centrale sola, si finisce per forza per avere delle abitazioni piuttosto distanti, si scendeva a velocità inferiore ai 7 Mbps, inferiore ai 4 e addirittura c'era chi andava più lentamente di 2 Mbps. Questo è il problema, il problema principale di una connessione attraverso il rame è comunque sempre la distanza e l'attenuazione del segnale della distanza. Per ovviare a questi problemi che abbiamo menzionato, si è pensato a un sistema di trasmissione migliore, una sorta di passaggio logico successivo, ovvero la FTTDP, la fibra fino alla chiostrina. Sostanzialmente la fibra ottica, invece di fermarsi all'armadio di partilinea, che in media è distante 300-400 metri dalle abitazioni, prosegue fino alla chiostrina, ovvero fino al piccolo nodo di distribuzione che dispone il rame ad un numero limitato di abitazioni, essendo di fatto l'ultimo nodo prima di raggiungere l'utente finale, quindi la casa e l'abitazione. Le chiostrine sono in genere entro 50 metri da ogni casa e tale distanza ridotta permette di fruire di un altro protocollo di comunicazione in sostituzione del VDSL, il GFAST. Quest'ultimo, il formato migliore possibile attraverso le connessioni in rame, è in grado, su distanze limitate, quindi entro i 50 metri di qui sopra, di fornire fino a 1 Gbit di velocità. Disgraziatamente, essendo comunque un protocollo di comunicazione via rame, soffre degli stessi problemi della VDSL. Il problema della distanza in genere è risolto dalla vicinanza media delle abitazioni alla chiostrina di riferimento, ma il problema della diafonia è comunque presente, a causa del fatto che ci sono delle linee che inevitabilmente viaggiano assieme, anche se per tratti più limitati, che quindi andranno a influire in maniera più limitata. Ovviamente più è lunga la distanza tra l'abitazione e la chiostrina, più il problema della diafonia si presenta perché più parte del cavo potrà rischiare di essere disturbato da un altro cavo che va a un vicino, ad esempio. Il passaggio successivo è la FTTB, cioè la fibra fino all'edificio. Nel caso per esempio di palazzi e condomini la fibra ottica arriva fino alla base dell'edificio, in genere in cantina, per poi arrivare in casa attraverso i sistemi alternativi, ad esempio cavi Ethernet. Questo sistema risolve tutti i problemi precedenti, permette all'utente finale di ottenere tutta la banda erogata dall'operatore, a seconda dei profili impostati naturalmente, senza disperdere nulla per problemi di distanza oppure di disturbi. Il passaggio finale, la massima espressione del sistema trasmissivo in fibra ottica, è la FTTH, cioè la fibra fino a casa. In questo caso infatti la fibra ottica arriva fino all'appartamento, o l'abitazione, dell'abbonato. La terminazione ottica entra nel modem fibra dell'utente. Questo sistema, che è addirittura migliore della FTTB, perché appunto porta la fibra ottica fino al modem, direttamente in fibra ottica fino al modem dell'utente, consentirebbe di raggiungere la velocità fino ai 10 gigabit per poi andare probabilmente anche oltre. Di tutti i sistemi che usano la fibra come mezzo trasmissivo di cui vi ho parlato fino adesso, solamente FTTB ed il sistema FTTH sono connessioni in fibra ottica vera e propria. Tutte le altre sfruttano il rame e protocolli trasmissivi diversi dalla fibra, come il già discorso VDSL e GFAST. Se il vostro provider vi offre la fibra, assicuratevi che si tratti davvero di connessioni in fibra ottica, perché la VDSL, che è attualmente la connessione che va per la maggiore in Italia, non offre le stesse caratteristiche della vera connessione in fibra ottica, né possiede le stesse potenzialità future di quest'ultima, che ad oggi è la tecnologia in connessione migliore anche, come detto, in prospettiva futura. Spero che con questo brevissimo podcast sono riuscito a fare un po' di chiarezza sulla fibra ultralarga che in questi ultimi mesi si sta sviluppando un po' di più in Italia, soprattutto per fare una grande distinzione fra la FTTC, la Fiber to the Cabinet, che è offerta per la maggiore da TIM, e invece la vera fibra ottica, che è appunto la FFTH oppure la FTTB, cioè la fibra Fiber to the Home, la fibra fine in casa, e Fiber to the Building, cioè o Basement, cioè la fibra fino all'edificio nel caso di condomini e palazzi in generale. Perché c'è una grande differenza, anche se viene impropriamente chiamata fibra ottica, la fibra ottica è solamente quella della Fiber to the Home e Fiber to the Building, perché la Fiber to the Cabinet non è una connessione in fibra ottica, in quanto all'utente non arriva la fibra ottica, ma l'utente riceve la connessione alla banda larga solo attraverso il rame. Quindi c'è una grossa differenza. La differenza non è solamente di nome, diciamo, di precisione, perché può creare delle incomprensioni, perché quando, per esempio, Tim parla di connessioni in fibra, e poi un altro operatore parla nuovamente di connessioni in fibra, ma intende davvero la fibra ottica, uno dice, vabbè, ma io la fibra ce l'ho già, magari attraverso Tim, perché con Tim ha la Fiber to the Cabinet, e quando magari un operatore dice che avrebbe la possibilità di fornire a un abbonato la fibra ottica, l'abbonato potrebbe dire, ma io la fibra ottica ce l'ho già. In realtà no. In realtà la fibra ottica vera, quella che porta la fibra fino all'abitazione, fino al modem, è la fibra ottica vera, ed è un sistema interamente in fibra ottica, che permette quindi di arrivare a velocità elevatissime, e non ha nessuno dei problemi che vi ho menzionato prima, sulla distanza, sull'attenuazione e sulla diafonia, e quindi dei problemi di disturbi. La fibra ottica permette di ottenere velocità, anche elevatissime, senza rischiare nulla, quindi senza rischiare di perdere parte, anche elevate, della banda erogata dall'operatore, potendo invece disporre di tutto quello che si paga a conti fatti, perché se io pago per, per esempio, la gigabit di Vodafone che mi offre la Fiber to the Home, mi arrivano tutti i 1000 megabit, non mi arrivano 200 o 300, mi arrivano tutti i 1000. Se invece io pago, per esempio, per la 100 megabit di Team in Fiber to the Cabinet, magari me ne arrivano 50, eppure pago la stessa cifra di chi magari è fortunato, abita vicino al cabinet e li raggiunge tutti i 100. Questa piccola precisazione è importante, anche perché nei prossimi mesi, grazie ai bandi di Infratel, una nuova società chiamata Open Fiber, sta cablando diverse città italiane in fibra ottica vera, cioè sta ponendola Fiber to the Home e dandola a disposizione degli operatori, quali per esempio Vodafone, per dare a tutti gli effetti la possibilità agli utenti di sottoscrivere un contratto in fibra ottica vera e le velocità che per il momento gli operatori stanno offrendo arrivano al gigabit. Diversamente, Team sta dando un'accelerata alla sua copertura in Fiber to the Cabinet, quindi collegando per la maggior parte delle abitazioni direttamente al cabinet, il quale è collegato in fibra ottica e le abitazioni collegate come sempre attraverso il vecchio rame di qui sopra. Quindi, se voi doveste avere la possibilità di accedere o alla fibra di Team, fibra di Team che non è fibra, ma è la Fiber to the Cabinet, oppure la fibra vera e propria, quella che arriva in casa, siate consci delle differenze di tecnologia e sappiate che la fibra ottica è il mezzo del presente e del futuro, invece il rame è un mezzo trasmissivo ormai del passato che prima riusciamo a sostituirlo, meglio è. Grazie a tutti per l'attenzione e fatemi sapere nei commenti se qualche cosa, qualunque punto che vi ho esposto non dovesse essere chiaro oppure se avete notato qualche imprecisione ed errore.